Stop alle vaccinazioni per operatori scolastici e forze dell'ordine. Si va avanti solo con gli ultraottantenni e con i richiami per il personale sanitario. Sono i primi effetti della temporanea sospensione decisa dall'Agenzia Italiana del Farmaco alle somministrazioni di AstraZeneca, che sta provocando anche in Puglia rallentamenti nella campagna vaccinali anti-covid. Uno stallo che durerà probabilmente ancora 24 ore, in attesa che l'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, si pronunci in merito alla sicurezza del vaccino, ma che ha già gettato nel caos il sistema sanitario regionale. Il blocco delle vaccinazioni con il farmaco anglo-svedese costa alla Puglia dalle 8 alle 10.000 somministrazioni in meno al giorno, il numero di dosi giornaliere destinate prevalentemente ai lavoratori del mondo della scuola e ai rappresentanti delle forze armate. Prima somministrazione e richiamo per queste categorie sono al momento in stand-by, ma si teme che se il semaforo rosso ad AstraZeneca dovesse durare più del dovuto, la regione sarà costretta a rivedere completamente il calendario dei vaccini anche per le altre categorie. A pagarne le conseguenze potrebbero essere innanzitutto gli over 70 per i quali l'avvio delle vaccinazioni è stato fissato indicativamente per dopo Pasqua, ma adesso il loro turno potrebbe slittare. La macchina vaccinale pugliese per il momento procede anche se con il freno a mano tirato. Secondo i dati aggiornati del Ministero della Salute, le dosi somministrate hanno superato quota 460.500, oltre l'88% di quelle ricevute che fanno della Puglia comunque la terza regione in Italia per numero di vaccini effettuati in rapporto a quelli disponibili. Altra buona notizia è quella relativa agli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali tra le vittime preferite del covid nell'ultimo anno di pandemia. Da quando ha avuto inizio la campagna vaccinale i contagi all'interno delle case di riposo sono praticamente crollati. Secondo uno studio della ASL nella provincia di Bari si è passati dai 1.500 casi registrati nelle RSA nella fase più acuta dell'emergenza tra settembre e dicembre agli attuali zero contagi. Dunque l'abbio delle somministrazioni agli anziani è conciso con la scomparsa del virus da queste strutture. L'ennesima dimostrazione che il vaccino resta l'unica arma a disposizione per vincere la battaglia contro il covid.